E' un festival marchigiano a vantare il primato dell'istituzione di una sezione interamente dedicata alle produzioni cinematografiche con intelligenza artificiale. Il Piceno Cinema Festival da ottobre proporrà i film in concorso nei sette comuni che ospiteranno le serate. Vediamo. Il Piceno Film Festival è una piattaforma molto particolare che promuove i celebre cinema indipendente coinvolgendo registi emergenti, cineasti e talenti italiani e stranieri con un'attenzione particolare rivolta alla formazione del pubblico giovane e a tutte le novità. Sette settimane consecutive in altrettante location dell'area Piceno ospiteranno le finali delle opere in concorso. L'associazione culturale Gli Oscenici APS ha deciso di aprirsi quest'anno all'ultima frontiera dell'innovazione tecnologica. Delle oltre 250 opere iscritte al concorso, infatti, sono ben 25 quelle realizzate integralmente con intelligenza artificiale, arrivate a partire dal 18 dicembre scorso, data di apertura del bando, fino all'11 maggio, termine ultimo per l'invio delle opere. I lavori realizzati con intelligenza artificiale sono arrivati dall'Italia e da tutto il mondo, India, Iran, Canada, Stati Uniti, Ucraina, Giappone, Taiwan e da diversi paesi europei e concorreranno per la vittoria in una speciale sezione. Nel cinema, ha sottolineato Marco Trionfante, regista, attore e direttore artistico del Festival, l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando produzione, post-produzione e fruizione dei film. Questa sezione attrae opere sperimentali da tutto il mondo e stimola la discussione sui benefici e sui rischi della tecnologia nel cinema. Il Piceno Cinema Festival prenderà il via il prossimo 22 ottobre a San Benedetto del Tronto per concludersi ad Ascoli Piceno il 7 dicembre. Questo era il nostro ultimo servizio, l'informazione regionale torna come di consito domani mattina alle 7.18 con il giornale radio su Radio 1. Per tutti gli aggiornamenti vi rimando al nostro sito trainews.it slash tgr slash market. È tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.